ciao amici di privacar san cesario l'auto che vi proponiamo oggi è uno dei suv è uno dei suv che volevo dire ciao amici di privacar san cesario l'auto che vogliamo proporvi in vendita oggi è uno dei suv premium parliamo infatti di una bellissima audi q5 l'auto è al moto ciao amici di privacar san cesario ciao amici di privacar san cesario l'auto che vogliamo proporvi in vendita oggi è un suv premium infatti vi mostriamo questa bellissima audi q5 con equipaggiata con il motore 2000 diesel da 177 cavalli e dotata anche della trazione 4 partendo dall'avantreno una cosa che ci colpisce subito è l'imponenza di quest'auto bellissimi i fari a led e soprattutto questi cerchi lega da 19 pollici che sono stati fatti installare dal proprietario veramente stupendi i pneumatici anche sono seminuovi parliamo di un battistrada all'ottanta per cento la carrozzeria è stata tutta controllata con il nostro spessimetro digitale e risulta tutta originale sul posteriore troviamo anche i comodissimi sensori di parcheggio e la retrocamera sicché su auto di queste dimensioni è davvero importante molto bello anche lo scarico ora vi porterò all'interno dell'auto e scopriamo come sono messi i sedili e tutti i comandi partendo dal posteriore dove troviamo dei sedili in tessuto e in perfetto stato sono stati usati pochissimo infatti in ottimo stato anche il sedile del guidatore anche sui punti più critici quelli che strumentamente si rovinano prima non ci sono né scuciture né segni di usura la corona del volante anche è come nuova così come tutta la strumentazione qui troviamo l'alloggio del cambio automatico e poi abbiamo questo display touchscreen anche questo è stato installato dal proprietario e su strada vi parlerò anche di tutte le sue funzioni bene amici ora andremo a fare un test accensione a fare unillasici. Gatti Test superato perfettamente. Volevo farvi vedere anche lo stato interno dove tutti i bulloni sono tutti originali e abbiamo controllato anche la data di fabbricazione dei fari che risulta essere quella dell'immatricolazione dell'auto. Questo è sinonimo di un'auto non incidentata. Ora la andremo a testare su strada, faremo anche un test accelerazione frenata, vedremo come si comporta anche il cambio automatico. Non prima però di ricordarvi di iscrivervi sul nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sulle nostre ultime novità. Andiamo! Una delle prime sensazioni che abbiamo guidando l'auto è sicuramente questo senso di potenza proprio sulla strada. Infatti grazie alle dimensioni davvero importanti e la guida molto alta è come se guardassimo tutti dall'alto verso il basso. In più l'abitacolo invece risulta estremamente silenzioso, riesce ad ammortizzare anche molto bene dossi, buche fastidiose che si trovano sempre in città. L'abbiamo testata anche su terreni disconnessi e la trazione 4 è ovviamente una delle migliori in circolazione. Ora faremo anche un test per l'accelerazione e la frenata e testiamo questo cambio automatico e il motore che è un 2000, vi ricordo, 2000 diesel da 177 cavalli. Siamo pronti? Partiamo! Andiamo a tavoletta. Ah, la cambiata è veramente ottima, molto veloce. Vediamo la frenata. Istantanea. Ci siamo proprio bloccati su strada. Merito anche di pasticche, dischi nuovi, appena montati. Davvero ricca anche la dotazione dell'auto. Infatti, oltre ai classici comandi al volante con quiz control, abbiamo anche un tastino sul volante per richiamare il navigatore. Abbiamo il climatizzatore automatico e questo display touchscreen con integrato Android Auto che è stato fatto installare dal proprietario. dove troviamo anche la gestione del navigatore, di tutta la multimedia, la possibilità di scaricare applicazioni e anche una cosa molto carina che ci permette di trasformare il display nel quadro comandi dove troviamo il numero dei giri, la velocità, anche la benzina, il diesel rimasto a disposizione e molto altro. In più abbiamo il cambio automatico e molti altri optional. Ah, importantissima per auto di queste dimensioni anche sensori di parcheggio e telecamera posteriore. E molto altro che vi consiglio di andare a scoprire visionando l'annuncio sul nostro sito www.prilipacart.com sezione San Cesario Non mi resta che salutarvi e vi ricordo che per prenotare un test drive per visionare l'auto vi basterà contattarci ai numeri che trovate in sovraimpressione. Ciao!